Il comune di Roma ha creato la conduttura per portare l'acqua nell'anno 1850-1879. Il comune di Roma ha creato la conduttura per portare l'acqua nell'anno 1850-1879. E ci sono le foglie tutte quante col bordo irregolare. E l'albero che io ti ho fatto fotografare è a Via Pavese, quello che a me piace moltissimo.